E' il dottore Calogero Puleo in persona, il professionista saccense nominato medico generico fiduciario del servizio di assistenza sanitaria per la marineria di Sciacca, a spiegare in cosa consisterà l'attività in favore degli operatori della pesca. Questa attività consisterà nel rendere un servizio a questa categoria di persone di lavoro, cui fanno capo i marittimi, i pescatori, gli aeroportuali e tutto quello attinente al lavoro col mare. Ecco, tra virgolette, sicuramente un impegno importante, visto appunto la mancanza del medico precedente, il dottore Randazzo, e poi dell'altro collega che si era dimesso per diversi motivi, ovviamente una posizione importante per questo servizio. L'incarico al dottore Puleo, dopo una fase provvisoria, è diventato come noto definitivo nei giorni scorsi e a darne notizia era stato il senatore Rino Marinello, che per mesi ha seguito da vicino l'iter burocratico. Ho partecipato ad un bando pubblico, quindi una volta che questo ruolo era stato portato per tanti anni dal noto dottore Randazzo, il quale mi aveva anche espresso, devo dire, la volontà che questo ruolo lo potesse ereditare io. E quindi una volta che uscì questo bando io approfittai e quindi partecipavo a questo bando. Adesso gli operatori della pesca non saranno più costretti a recarsi a Porto Empedocle o Mazzara del Vallo per fruire dei servizi espletati dal medico generico fiduciario del servizio di assistenza sanitaria naviganti. Penso che sia importante perché dalle voci di popolo, tra virgolette appunto il popolo marinaio, non soltanto saccense ma anche limitrofo, è senz'altro una bella comodità perché fino a poco tempo fa appunto dovevano spostarsi nei diversi medici marittimi competenti che si trovano un po' distanti da Sciacca. Quindi avere il medico qua a Sciacca è un servizio molto favorevole per loro. È già operativo questo servizio? Diciamo che il servizio è operativo, soltanto che mancano ormai le ultime delineazioni dal punto di vista burocratico e amministrativo che a breve risolveremo. Grazie.